Sono un po' più grosso, adesso che sono senza, se io sti sento, e vanno anche più al film. E loro sono andato all'altano a raccogliere un po' di roba. Poi il problema adesso è pelarli, perché adesso spero lì, spero lì e volete. Allora, fai domani le gambe, che sbaglio ne è? Allora, il cavagnino è da parlare, di cestini c'è da parlare due giorni, per dire tutte le cose sui cestini, tutte le malissie. Ma è tutta l'esperienza che viene poi. Ecco, che sono cose che uno non può insegnarti. Devi capire te secondo quello che vuoi fare e devi procurarti quello che hai bisogno. Qui adesso, per fare la base, tutta la storia. Cioè, quattro bisogna tagliarli in mezzo, gli altri quattro si mettono, si infilano in mezzo. Ogni pezzo di salice bisogna sia il contrario dell'altro. Dove qui il piccolo bisogna mettere quello grande, perché tutto il piatto c'è dal piccolo il più grande, no? Ecco, allora bisogna, mai magari tutte le teste di qua e tutte le punte di là. Bisogna una e uno. Tutti e quattro. Qui ho messo il grande e metto il piccolo. E si fumare con il zai. Adesso, confilando i quattro nel salice che passa in mezzo, metto gli altri quattro in mezzo, perché ce ne sono quattro. Qui c'è quello con la punta e qui metto la punta di là, che è più grande di qua. A rincontrare da sì. E a rincontrare con questo qua. Adesso io ho i quattro, diciamo lo scheletto. Sare il fondamenta per fare il camagnino. Perché come fare l'acqua, io non ho il fondamenta. Ecco qua, questo è lo scheletto. Adesso incomincio a fare la base. Decido io cosa voglio adoperare. In questo caso, adopro un salice giallo. Perché quello bianco è pelato. Si pela e non si sa se era giallo o nero. Pelato sono tutti bianchi. Ne prendo quattro. Così. Prendo i due più lunghi. Lascio questo. Va bene. E poi incomincio a tenere insieme i quattro salci grandi che ho lavorato per fare la base. Quattro tagliati in mezzo. Gli altri quattro infilati. Così non resta spessore. Poi cominciamo. Faccio passare le punte in mezzo a quelli tagliati. Poi incomincio. A legare per tenere insieme. Quello di sotto va sempre tenato su prima. Quello sopra bisogna che chiuda il tempo che arriva di sotto. Poi una volta fatto il giro che li chiudo tutti insieme. Comincio a dividere. Comincio a dividere. Comincio a dividere. Due e due. In questo caso due e due non ci sono quattro. Abbiamo diviso i quattro in metà. Adesso ne abbiamo otto. Adesso continuiamo e dividiamo i quattro. Uno per uno. Non più due due. Ma ognuno singolo. E fumo come in su. I rai di su. Come quando andavo a scogliare. Con il profilo su. Facciamo gli oranci. Così. Uno per uno. I piedi ridiamo. Cercando. Andando avanti. Qui è più o meno tutta la stessa distanza. Qui lavoriamo due. Più avanti bisogna lavorare tre. Perché? Perché lo vedremo più avanti. Adesso io lavoro con due salici. Poi si lavorerà poi con tre. Andiamo avanti sempre. Fino a quando non finisse i due salici. Che ho preso per incominciare. Ecco. Spunto e si sono finiti. I due. Quando ho cominciato si taglia la punta. Così. Abbiamo quasi. Un sole ben fatto. Prendo altri due salici. Continuo. E. Torno a ripetere. Tutta roba viene dalle larghe. Perciò. Dalle derivazioni. Non si tagliano. Si mettono le lunghe uguali. E si continuano. Allora. Come si fa quando si termina con un salice? Se si termina con la parte più grande. Si riprende sempre con la pianta più grande. Quando si termina con la punta. Si riprende con la punta. Non si mette mai un salice uno vicino all'altro. Ma sempre uno sopra l'altro. Altrimenti poi lì ci sta un vuoto. Ecco. Questo qua anche. Andiamo ancora avanti una volta con due. Poi comincio a lavorare con tre. Sempre tirando bene. In modo che non ci sia lo spazio. Perché questo è un lavoro che se uno un po' pignolo. Non sei mai contento. E' un po'. E' un po'. E' un po'. E' un po'. Come in tutti i lavori. Come vedete si sta formando come il raggio di un sole. Cerco di tenerli tutti alla stessa distanza. Adesso sto terminando. Avendo cominciato con la parte più grande. Sto terminando con le punte. Ecco. D'ora in avanti. Lavoro con tre salici. Perché? Perché? Perché quando sarà fatta la base. Che devo salire per fare le pareti. Per fare questo qua. Ho bisogno sia lavorato tre per infilare. Qui si vede meglio. Qui si vede meglio. Per infilare questi. Perché? Qui ho lavorato due. Non ce l'ho. Quel posto da infilare i salci. Qui ho lavorato tre. E si formano quelle sacche. Che io poi posso infilare. Qui ho lavorato due. Qui ho lavorato tre. Dentro ho lavorato due. Dentro ho lavorato in maniera. Fuori in un'altra. In modo in cui ci siano quel posto da infilare i salci per salire. Ecco. Adesso comincio il tempo. Prego. Questi due poi ne aggiungo uno. Uno, due. arrivo con la punta e comincio con la punta. La metto vicino. In questo caso non fa bisogno di stare sotto sopra. Essendo piccoli non tengo lo spazio. Il terzo lo metto dopo. Perché? Ecco. Perché adesso non è più come prima che passo sopra, sotto, sopra e metto in treccio. Adesso passo sopra uno e sotto due. Perché io ho passato sopra uno e sotto due. Anche il terzo ho messo. Sopra uno e sotto due. Io ho sempre. Ecco. Adesso vado avanti. Così quelli vecchi. Si. Li perdono per strada. Non si vedono più. Sopra uno e sotto due. Di qua si vede bene. Io adesso ho tre salici che escono. Ogni parte c'è uno che esce. E cambia. Lavoro cambia.